Tutti perfettamente a rete, i sette concorrenti, gradualmente la macchina prende velocità, lo stacco. Pancottina, Bars, Cavalcanevera, all'esterno è veloce Illipan che va deciso su Pancottina e prende l'iniziativa. Illipan su Pancottina, Nevera, Pinerolo a largo, poi Only One Glory, Lex Wise, Persia, De Lanz, 13,4 per i primi 200 metri, quali che si presentano ora al passaggio di fronte alle tribune, il quarto in 29, Illi su Pancottina, all'argo interviene subito Lex Wise che va a gravitare a ridosso di Illipan, poi Pinerolo, Nevera lungo la corda, Only One all'argo in coda, Persiade, 600 in 44,7, ho preso un attimo fiato, dopo il lancio in 13,4 c'è un 31,3, e ora il passaggio agli 800 in 59,5, Illi e Lex, poi Pancottina, Nevera, Pinerolo a largo, terza per Only One Glory, in coda sempre Persiade, il passaggio al primo chilometro sul piede dell'uno, 14,5, Lex ora attacca duramente Illipan, Illi reagisce lungo la corda, i due apparigliati a 4,50 alla conclusione, poi tre in linea alle loro spalle, dallo steccato Pancottina, Pinerolo e Only One che avvicina i primi due, 14,3, la retta dai 600 ai 400, il paletto dai 600 ai 400, ingresso alla retta di arrivo, Illi in vantaggio, Lex Wise che prova l'attacco, in terza Only One Glory, di dentro Pancottina, poi Nevera, Illipan in vantaggio, nuovo affondo di Lex Wise, Illipan che si difende, Lex Wise che attacca sul palo, ancora Illi, su Lex Wise, poi al terzo, Pancottina, Baro. Dieci anni e non sentirli veramente, che cavallo fantastico che è questo figlio di Ganymede, e qui vanno i complimenti anche a Moreno Maccagnani che con questo cavallo nel corso della carriera ha fatto veramente un gran lavoro perché l'ha saputo gestire alla grande, portandolo all'ultimo anno di attività, quello dei dieci anni, ma poi non è detto che si interrompa l'attività se continua ad andare così forte, ancora su questi livelli. Quindi Illipan, Michele Canali, Moreno, Maccagnani e i colori del signor Franco Tonelli, il tempo nell'ordine dell'1.13.3, 13.4, la quota al totalizzatore per Illipan è di 1.89.